E' partita in questo istante la finale per quanto concerne giornata odierna di prove su Cozzi in metrovese da categoria femminile, quattro gli armi al via, in acqua numero uno la Lega Navale Italiana, sezione di Genova Sestri-Ponente, con il timoniere Giancarlo Caramagno e le vocatrici Gloria Mancuso, Bianca Somma Riva, Alice Mancuso e Mascia Sacchi in acqua numero due Club Sportivo Urania Genova Vernazzola, con la timoniera Paola Brissolari e le vocatrici Arianna Moscatelli, Elisa Dioguardi, Alessia Graci e Veronica Germano in acqua numero tre Canottieri Porto Ceresio Misto Germignaga, con il timoniere Andrea Illini e le vocatrici Daniela Illini, Barbara Barocci, Greta Banfi e Sonia Porcelli e in acqua numero quattro, più all'esterno del campo di regata, il Club Sportivo Urania secondo equipaggio, con la formazione timonata da Riccardo Fossa e spinta dalle vocatrici Ilaria Mamazzano, Valentina Cacciacarne, Viviana Graci e Karen Andrea Facin Urania che insieme girano la bandierina, di conseguenza appagliatissime l'imbarcazione in corsia due, l'imbarcazione in corsia quattro, in terza posizione gira il Porto Ceresio all'imbarcazione di transitare nelle pressi del campo di regata vediamo acqua due e acqua numero quattro, Urania e Urania vediamo chi riesce ad uscire per prima, l'acqua quattro esce per prima risponde poi in acqua due, l'altro equipaggio dell'Urania in terza gira in questo momento sulla bandierina rossa al Porto Ceresio in quarta entra la Lega Navale Cagnana di Sestri entra per prima in voa l'equipaggio in acqua quattro sempre la formazione dell'Urania composta da Babazzano, Cacciacarne, Graci, Faccina e Timoniere Fossa in seconda posizione entra il secondo equipaggio dell'Urania Moscatelli, Dioguardi, Graci, Germano e Prissolari in terza entra la Cannotieri Porto Ceresio Porcelli, Banti, Barocci, Illini e Timoniere Andre Illini di gara ed è proprio l'equipaggio in acqua quattro Ilaria Babazzano, Valentina Cacciacarne, Viviana Graci, Karen Faccini e Riccardo Fossa che sul suono dei giudici all'arrivo vince la finale di categoria femminile in seconda posizione per la medaglia d'argento sono Arviana Moscatelli Elisa Dioguardi, Alessia Graci, Veronica Germano e Paola Prissolari che completano la prova in seconda posizione pronto invece terza posizione per l'armo di casa della Cannotieri Porto Ceresio, Sonia Portelli, Greta Banti, Barbarabarocci Daniela Illini e il timoniere Andrea Illini in quarta posizione va a concludere la propria prova l'equipaggio della Lega Navale Italiana di Genova Sestri Ponente con il timoniere Giancarlo Caramagno e le evocatrici Alice Mancuso, Bianca Sommariva, Gloria Mancurde e Mascia Sardi Sì qua qua dove sono le altre barche Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti